I tifosi sono a corsi in massa allo stadio, vogliono vivere una notte speciale e ce la metteranno tutta per trascinare la propria squadra al successo, un caloroso saluto da Piero Gipardi e Daniela Dani, di scena oggi le Division Rivals, sarà una gara davvero tutta da seguire Lene Sotto un pierre, ma io non vedevo l'ora che arrivasse questa partita, pure di notte me la son sognata, ma te pensa cosa può arrivare la passione per il calcio? Formazione di casa che scende in campo con questi undici, Pope la scelta per la porta, difesa che vede la coppia composta da Kekon Van Dijk Foden insieme ad Angel Correa largo sugli esterni e i due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni Foden Foden Avanza verso la porta A Kekon Van Dijk Pallone per Marcos Llorente Alex Balde Marcos Llorente Attentissimo, situazione che era complicata Ecco come si schierano gli ospiti Per Inter la porta Dietro giocano Pavard con Kolasinac Loboczka insieme a Sensi sulla mediana In avanti Lukman ha vinto il ballottaggio e dunque scende in campo da titolare Posizione interessante Interviene e sventa il pericolo Refrettori puntati su Ballingham sicuramente uno dei più interessanti di questo match E' bravo negli inserimenti, da dietro sa arrivare col tempo giusto, sa sfruttare gli spazi, sa andare al tiro Insomma Pier parliamo di un giocatore completo Gakpo Fisca l'arbitro, punizione invitante questa Allenatore si affina, forze fresche C'era la potenza qui ma il portiere è stato sicuro, non si è fatto cogliere in preparato Fisca l'arbitro, non si è fatto cogliere in preparato A metri 1-0 Risultato che si sblocca grazie a questo gol Via Federico Di Marco Passaggio per Van Dijk Balde Appoggio su Coman Lo bocca Di Marco Continuano a spingere Subito sventiti, sfuma l'azione Balde Van Dijk Alex Balde Palla che esce, sarà faro laterale Possesso è regalato Federico Di Marco Brutto passaggio Brutto passaggio e pallone regalato Via Interviene al momento giusto e recupera Gran dribbling Contrasto eccezionale Pallone uscito, sarà rimesso dal fondo Van Dijk Se ne va in progressione Ecco Marco Fiorente Brutto passaggio questo Marco Fiorente Fiorente Nel suo problema per il portiere Che la blocca Sì, perché ha avuto poi tutto il tempo Per posizionarsi E prepararla a questa parata Luchman Gran palla qui per il compagno Mado Messica il pallone Ha spazio per provare Attenzione Intercetta bene Intercetta bene in zona pericolosa Sensi Ci ha messo una pezza qui il portiere Codigacco Codigacco Intervento efficace e possesso Recuperato L'arbitro L'arbitro Possesso gestito male Possesso gestito male Federico Di Marco Il tocco per Cancelo Correa Bellingham Bellingham Nunez Attenzione tutto solo Perinda ma non è finita Marcos Fiorente Appoggio su comanda Alex Bander Sono già avanti di un gol Questo corner può essere l'occasione Per raddoppiare il vantaggio Ovviamente se è sfruttato a dovere Suggerimento interessante L'area avversaria L'area strinta di Perino Ma attenzione si gioca Se la cavano senza problemi Lukman Lukman Hanno l'occasione Attenzione Per trovare il gol del pareggio Gakpo Va da Cancelo Prosegue nella sua avanzata Azione che sfuma Pallone che torna agli avversari Nulla da fare Prova a metterla sulla corsa Nel compagno Lobotka Riceve il codice Gakpo C'è spazio per la ripartenza Sensi La dai indietro E c'è la rete Eccolo il gol del pari Hanno pareggiato Dunque 1-1 Balde Si mette bene sulla traiettoria Lukman Grande opportunità Impeccabile lettura difensiva Correa Bala per Bellinger Marcos Fiorente Buona lettura Da parte di Sensi Darwin Nunez Perde palla Lukman Può calciare in porta Da lì Attenzione Flete Volteggio cambiato Ora siamo sul risultato Di 2-1 Stefano Sensi Si riprenderà con un fallo laterale Dumfries Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora Occhio perché perdono un pallone pericoloso Situazione complicata Poco spazio E c'è il gol Il secondo Il rabbi da successione Vattaggio importante adesso Kingsley comanda Ha peccato l'insufficienza Ha perso un pallone banale Cukweze Dumfries Fuggerimento in area Intervento rubido Ma corretto Marcos Fiorente 600 secondi da giocare ancora Con la Sinaz Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio Prende campo Palla al piede Bellingham Tocco per Correa Occhio all'occasione per riaprire il match Iniziativa svendata dal portiere Gioao Cancelo Svetta il pericolo Ultimi minuti di gara con gli ospiti Che sembra aver già messo al sicuro il risultato Questo è un risultato che rispecchia fedelmente L'andamento del match Con una squadra nettamente superiore Che ha fatto il bello e il cattivo tempo Accelerando quando era il momento di spingere Ed accelerando il ritmo del gioco Quando c'era da rifiattare Prestazione super Bellingham Bellingham Riceve Cody Gakpo Correa Recuperano bene il pallone Altro possesso perso E' finita Un ottimo risultato per la squadra ospite Che torna a casa con i tre punti Vincere e convincere Questa era E' finita qui torna a casa con i tre punti